Musica Bentornati cari semini e telespettatori al TG dei ragazzi Oggi parleremo di Marty Ruther King, del golfo della spezia visto dall'alto, degli animali e delle percussioni Bene, oggi vogliamo ricordare nel nostro TG Marty Ruther King, perché il 4 aprile è stato il cinquantesimo anniversario del suo assassino Pagifista convinto e grande uomo del Novecento, Marty Ruther King Junior nasce nel 15 gennaio 1929 ad Atlanta, Georgia, nel profondo sud degli Stati Uniti Suo padre era un predicatore della Chiesa Battista e sua madre una maestra I King inizialmente vivono nell'Auburn Avenue, soprannominata il Paradiso Nero, dove risiedono i borghesi del Ghetto, gli eletti della razza inferiore Per dirla con un'espressione paradossale in voga al tempo Nel 1948 Martin si trasferisce a Chester, Pennsylvania, dove studia teologia e vince una borsa di studio che gli consente di conseguire il dottorato di filosofia a Boston Qui conosce Corretta Scott, che sposa nelle 53 A partire da quell'anno è pastore della Chiesa Battista a Montgomery, in Alabama Negli anni successivi è l'ispiratore e l'organizzatore delle iniziative per il diritto ai voti dei negri e per la parità dei diritti civili e sociali Oltre che per l'abolizione, su un piano più generale, delle forme legali di discriminazione dei neri che c'erano negli Stati Uniti Nel 1957 fonda la Southern Christian Leadership Conference, SCLC Un movimento che si batte per i diritti di tutte le minoranze e che si fonda su ferre e precetti legati alla non violenza ispirati a Gandhi Il colmine del movimento si ha il 28 agosto 1963, durante la marcia su Washington quando King pronuncia il suo discorso più famoso I have a dream, ho un sogno Nel 1964 riceve ad Oslo il premio Nobel per la pace Durante gli anni della lotta King viene più volte arrestato e molte manifestazioni da lui organizzate finiscono con violenze e arresti di massa Egli continua a predicare la non violenza pur subendo minacce e attentati Nel 1966 si trasferisce a Chicago e modifica parte della sua impostazione politica Si dichiara contrario alla guerra del Vietnam e si astiene dal condannare le violenze delle organizzazioni estremiste Denunciando le condizioni di miseria e degrado dei ghetti delle metropoli, entrando così direttamente in conflitto con la Casa Bianca Nel mese di aprile dell'anno 1968 Luther King si recò a Memphis per partecipare ad una marcia a favore degli spazzini della città bianchi e neri che erano in sciopero Mentre sulla verranda dell'albergo si intratteneva a parlare con i suoi collaboratori, vennero sparati alcuni colpi di fucile King cade rivesso sulla ringhiera Pochi minuti dopo era morto Approfittando dei momenti di panico che seguirono, l'assassino si allontanò indisturbato Erano le ore 19 del 4 aprile Il killer fu arrestato a Londra circa due mesi più tardi Si chiamava James Harold Ray, ma rivelò che non era stato lui l'uccisore di King Anzi sosteneva di sapere chi fosse il vero colpevole Nome che non poteva mai fare perché venne accoltellato la notte seguente nella cella in cui era l'inchiuso Ancora oggi il mistero della morte dell'indimenticabile leader nero rimane in insoluto Pochi giorni fa due dei nostri redattori sono andati all'aeroclub di Sarzana per provare com'era l'esperienza del volo Indiosca, Roma e Bravo, ecco da Sarzana Viga Siamo in ascolto, rollaggio a discrezione, nessun traffico riportato QNH 29,98 Intensità del vento a 5 nodi, direzione da 170 Cos'era questa comunicazione? Queste sono delle comunicazioni che facciamo Non possiamo dare autorizzazioni perché non siamo una vera e propria autore di controllo Infatti ci chiamiamo Biga Sarzana L'autore di controllo c'è militare solamente che chiude nei giorni festivi E noi subentriamo, noi dell'aeroclub subentriamo al loro posto Dando informazioni sulla pressione, sul vento e informazioni di traffico aereo Bene, oggi ci troviamo qua all'aeroclub È anche una giornata molto particolare E siamo venuti qua Io e Dylan abbiamo provato a fare un volo È stato molto divertente per me È stato un volo normale, visto che ormai ci sono abituato Per dire invece è stato il primo Adesso vi richiediamo un attimo come ci si sente Per me è stato il primo È stato molto emozionante Divertente soprattutto Vedersi così a alti comunque La prima volta è molto bello E comunque vorrei fare un paio di domande Cosa vuol dire volare? Volare è una passione ma è anche un DNA O si ha o non si ha Ci sono persone che amano il volo e persone che lo detestano Io spero che tu sia di quelli che amano il volo Ma il volo è uno sport o può diventare anche un lavoro? Il volo intanto è uno sport perché all'inizio è sempre uno sport Però può diventare un lavoro importante perché si incomincia da questi piccoli aerei Si fa un brevetto che si chiama PPL Però è il primo passo per un successivo brevetto che può abilitare al volo commerciale Il volo commerciale diventa una professione Una professione anche importante, ben pagata E si pensa che verso il 2020 ci sarà bisogno nel mondo di 200.000 nuovi piloti Lei da giovane ha avuto una passione per il volo Oppure gli è venuto dopo anni di lavoro? Io sono stato fortunato La mia passione per il volo probabilmente è nata quando sono nato io Ho avuto la fortuna di vincere il concorso in aeronautica nel 1969 Ho superato tutti i vari esami sia teorici che pratici E sono riuscito a diventare pilota militare E ho continuato fino all'anno in cui sono andato in pensione a fare questo tipo di attività Che aerei ha pilotato e se ha qualche momento da raccontarci? Allora, dividiamo gli aeroplani sui quali ho avuto la fortuna e il piacere di volare Fra gli aeroplani da addestramento come il P148 e il P166 E due velivoli a reazione, l'MB 326 e l'MB 339 A livello operativo invece ho volato sul G222 che è un velivolo da trasporto E l'attività, la mia attività è stata quasi completamente assorbita dal C130 L'Hercules anch'esso velivolo da trasporto Un episodio che mi è piaciuto è un episodio che è derivato da una necessità Perché ero a Beirut con il C130 e un motore, il motore numero 4 non partiva Per cui il mio comando mi ha autorizzato a decollare con tre motori E mentre cannoneggiavano l'aeroporto di Beirut con i mortai Con il mio equipaggio sono riuscito ad andare via con tre motori e a rientrare a Pisa Oggi siamo qua con Zoe per parlare delle tartarughe di terra Intanto cosa mangiano? Allora mangiano l'insalata, i pomodori, l'anguria, insomma tutti gli ortaggi E invece di che razza sono? La razza è la testù di Ermanni E l'habitat c'è? Dove le tieni? Io le tengo in una piana del giardino e hanno un recinto Intanto quanti anni vivono? Non so esattamente la massima età, però ad esempio una mia tartaruga che ha 22 anni Ok, e invece sono affettuose con le persone o invece no? Sì, sono molto brave e non interagiscono tanto come altri animali, ad esempio il cane Quanto possono essere grosse o comunque le tue quanto sono grosse? Ad esempio una mia tartaruga è la lunghezza di 8 cm e la larghezza di 6 cm Quindi comunque molto piccole E le femmine sono invece molto più grandi dei maschi Come vivono le tartarughe? Le tartarughe vivono 9 mesi sotto terra, quindi il letargo E invece gli altri 3 mesi di estate e primavera sopra la terra Bene, oggi siamo qua con Dylan che suona nella giovane orchezza Pezzina E gli vorremmo fare alcune domande Ad esempio, tu quale strumento suoni? Io suono le percussioni, però comunque nel tempo ho imparato un po' a suonare pure la batteria E ma ti trovi bene oppure hai avuto più difficoltà nell'imparare i tempi e i ritmi? Come tutti gli strumenti è un po' difficile subito imparare Però poi dopo un po' ci si abitua e è molto bello ora sapevo suonare Bene, ma una domanda un po' tra bocchetto Ma nella giovane orchezza Pezzina, secondo te c'è impegno o no? Sì, tutti ci mettono un po' impegno Comunque anche per imparare i pezzi e non so, a studiarli Quali sono i tipi di percussione? Subito noi abbiamo iniziato intanto per imparare i piatti, il triangolo, maracas Poi siamo andati sempre più in alto e abbiamo imparato a suonare rullante, con gas e piatti e tante altre cose E ora in alcuni pezzi ci sono pure la batteria Perfetto, ringraziamo Dylan e ci vediamo nella prossima puntata della rubrica della musica Arrivederci Grazie Grazie Grazie